Chiude la stagione regolare con una netta vittoria con Sassari Landbolerice, gestione dall'inizio alla fine di una partita che ha sancito la forza delle arpie, che ora possono pensare alle semifinali dei play-off al via mercoledì, a Versalia il Pontigna. Vista la seconda posizione nella classifica definitiva, le nero-verdi avranno il fattore campo a favore nella serie al meglio delle tre partite. Questa partita ha fatto sì di prepararci al meglio per la prima gara di semifinale Scudetto, una partita comunque pesante, ma siamo contenti per aver concluso il campionato in seconda posizione. Avremmo potuto fare meglio, ma ci accontentiamo lo stesso. Quanto è fondamentale secondo te avere la capacità di correre nei primi secondi dell'azione, chiudere le maglie in difesa e scatenarsi in contropiede? Quest'oggi tanti gol in contropiede. Ti chiedo, quanto è importante questo nei play-off? È una chiave secondo te o c'è altro? Sì, sì, è una chiave importantissima, cruciale, anche perché a livello mentale ti aiuta comunque a iniziare ed essere pronte per affrontare al meglio la fase più cruciale della stagione. Chiudiamo con una piccola battuta. Cosa ti aspetta a livello personale, non solo dai play-off, tu che sei sarda, comunque tornare qui, cosa ti aspetti in generale, tutto il movimento? Sicuramente tornare qui è sempre una bella emozione. La Sardegna mi appartiene e spero vivamente che ci sia il meglio nel mio territorio. Con la mia società spero appunto di concludere in bellezza la stagione. Grazie. 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 Grazie.